Nel Centro Storico di Clusone in arrivo due appuntamenti con personaggi dello spettacolo e della televisione. Perché questa idea? Sì, è un'idea nata in collaborazione con l'amministrazione comunale che si sta cercando insomma di far rivivere questo Centro Storico all'aperto. E quindi è un centro commerciale e vogliamo puntare sulle iniziative anche che vengono svolte nei centri commerciali. E quindi perché non approfittare di questi personaggi noti della televisione per richiamare più gente possibile nel nostro paese. Il primo appuntamento è già domani, chi ci sarà? Ci saranno tre amiche nello shop inclusionese, così abbiamo voluto intitolarlo. Sono tre donne che lavorano in televisione, Melitta Toniolo, Gwendalina Canessa e Carina Cascella. Sono tre amiche tra di loro e quindi potranno passeggiare per Clusone, fare shopping nei nostri negozi e comunque salutare i nostri turisti e i clusonesi. Sabato invece l'appuntamento è più dedicato ai bambini? Sì, un pomeriggio all'insegna del divertimento con i personaggi della melevisione. Una trasmissione che è prettamente per i bambini, per una fascia appunto di bambini piccoli ma anche non. Infatti tanti ragazzi che ormai sono cresciuti ricordano la loro infanzia perché la melevisione li ha accompagnati negli anni appunto della loro infanzia. Quindi sabato 29 dicembre alle 16 in piazza dell'Orologio ci saranno Lupo Lucio e Gatta Sibilla. Ricordiamo poi che sabato nel centro storico potete continuare il tesseramento alla Turismo Proclusone. È un impegno al quale noi come Turismo Proclusone teniamo particolarmente e chiediamo proprio a tutti l'aiuto della tessera perché ci potrà aiutare per costruire insieme il centenario della Turismo Proclusone. Si avvicina anche il Capodanno e l'appuntamento in questo caso è con il tradizionale Veglione che quest'anno cambia sede. Cambia sede perché la piazza dell'Orologio è occupata ancora dai lavori di ristrutturazione del palazzo comunale e quindi quest'anno sarà in piazza Manzù. La consueta festa che ormai dal 2000 noi stiamo portando avanti come Turismo Proclusone insieme all'amministrazione comunale dalle ore 22 in piazza Manzù quindi con il DJ Pazzini potrete ascoltare dell'ottima musica, festeggiare con noi il nuovo anno e farci tanti auguri per il 2013.